Entro il 2016 sicuramente apriremo il primo co-working pubblico, quindi uno spazio di lavoro condiviso dove appunto per lavoro condiviso non intendiamo semplicemente uno studio associato dove si affittano scrivanie ma proprio la possibilità di sprigionare una nuova economia, l'economia della collaborazione dove attraverso appunto il lavorare assieme nello stesso posto nascano sinergie, collaborazioni e quindi anche una modalità nuova di lavorare. Per questo il Comune di Pescara ha investito e pensa di investire come innovazione sulle politiche attive del lavoro proprio sull'economia della collaborazione e sul lavoro condiviso. L'evento finale del progetto che poi è l'inizio dell'avvio dell'innovazione e dell'amministrazione ci sarà venerdì con un grandissimo evento sulla sharing economy e l'economia della condivisione che realizzeremo all'aurum di Pescara verranno le maggiori realtà sia di sharing economy che di co-working di tutta Italia. Cito solo alcune, Coab di Milano, Mille Piani di Roma, piuttosto come una delle più importanti piattaforme di social eating Gnammo saranno presenti, saranno le istituzioni, la giornata è organizzata insieme a Lancia Abruzzo che ha invitato tutti gli enti locali a partecipare della nostra regione e alla fine festeggeremo la chiusura del progetto con i 25 giovani promotori territoriali che l'hanno animato per un anno con un party finale allo stabilimento Balneare La Lampara.